VANGELO DEL GIORNO Dal Vangelo di Gesù Cristo secondo Marco In quel tempo Gesù si mise a parlare con parabole, ai capi dei sacerdoti, agli iscribi e agli anziani. Un uomo piantò una vigna, vi pose attorno una siepe, scavò un torchio, costruì una torre, poi la diede in affitto a dei vignaioli e se n'andò lontano. A suo tempo inviò un servo a ritirare da quei vignaioli i frutti della vigna. Ma essi afferratolo, lo bastonarono e lo rimandarono a mani vuote. Inviò loro di nuovo un altro servo, anche quello lo picchiarono sulla testa e lo coprirono d'insulti. Ne inviò ancora un altro e questi lo uccisero. E di molti altri, che egli ancora mandò, alcuni li bastonarono, altri li uccisero. Aveva ancora uno, il figlio prediletto. Lo inviò loro per ultimo, dicendo Avranno rispetto per mio figlio. Ma quei vignaioli dissero tra di loro Questi è l'erede, su, uccidiamolo, e l'eredità sarà nostra. E afferratolo, lo uccisero e lo gettarono fuori dalla vigna. Che cosa farà dunque il padrone della vigna? Verrà e sterminerà quei vignaioli e darà la vigna ad altri. Non avete forse letto questa scrittura? La pietra che i costruttori hanno scartata è diventata testata d'angolo. Dal Signore è stato fatto questo ed è mirabile agli occhi nostri? Allora cercarono di catturarlo, ma ebbero paura della folla. Avevano capito, infatti, che aveva detto quella parabola contro di loro. E lasciatolo se ne andarono. La lettura del Vangelo del giorno è offerta da www.preghiere.eu Visita il sito per conoscere i suoi contenuti.